Riparte domenica 15 gennaio alle ore 16 dal Palaercole di Policoro la stagione del Borussia Policoro nel campionato di Serie A femminile di calcio a 5. Dopo la sosta forzata nella prima di campionato per via del ritiro del Catazzaro, le ragazze policoresi si troveranno ad affrontare davanti al proprio pubblico la prima della classe, la Real Sandos. Ma non mancano le novità in casa Borussia, illustrate nel corso di una conferenza stampa tenutasi sabato nella sala Buccolo, a cui hanno partecipato il presidente onorario Tonino Pascale, la vice presidente nonché giocatrice Rosanna Sisto e tutta la squadra. La prima novità degna di rilievo è l'arrivo di un nuovo allenatore, mister Antonio Caffarella, 27 anni, proveniente dalla Real Stigliano, dove ha ottenuto due salvezze in altrettante stagioni, che farà proprio domenica il suo debutto sulla panchina. Io ringrazio la società per avermi dato questa opportunità di unirmi al vostro gruppo, l'ho vista subito come una sfida molto interessante perché conoscevo sia un po' l'ambiente policoro, calcio a 5 e conosco bene il calcio a 5 femminile, soprattutto in questa categoria. Ho trovato un gruppo molto unito, soprattutto delle ragazze molto educate, molto disponibili, si allenano con tantissimo entusiasmo e hanno voglia di migliorare, di apprendere e di crescere sicuramente. Mi dispiace soltanto della posizione che in questo momento stiamo occupando in classifica perché sicuramente non lo meritano, di stare lì perché i valori tecnici che ci sono in questa squadra sono molto superiori rispetto a quello che c'è poi lì sulla carta, cioè della classifica. Da domani abbiamo già una sfida molto importante contro la prima in classifica, però è chiaro che non ci aspettiamo domani di fare risultato, però spero e sono fiducioso che faremo una bellissima gara e niente, da domani ricominceremo un altro cammino rispetto a quello che hanno fatto fino ad ora sperando di cambiare un po' le cose. Però c'è la salvezza, sono molto fiducioso che arriverà. Sono unite tra di loro, non ci sono altri problemi, ci siamo allenati io adesso, sto già da un mese qui con loro, è stato un mese dove abbiamo lavorato molto, nell'ultime due o tre settimane si sono unite le due nuove ragazze portoghesi, domani ne potremo schierare soltanto una delle due perché l'altra ancora non ha tutta la documentazione per essere schierata, però daranno una bella mano anche loro alla squadra sicuramente. Accanto al nuovo allenatore sono stati presentati tre nuovi innesti, le giocatrici portoghesi Rachel Maria Guedes Nunes, 22 anni, e Bruna Solange Oliveira Marigno, 23 anni, entrambe universali portoghesi, e Serena D'Addurno, laterale, 22 anni, di Marconia. Per la gara contro la Real Santos non sarà disponibile Bruno Oliveira in quanto non è ancora pronta tutta la documentazione della federazione portoghese. Ci ha parlato di questi nuovi innesti dell'obiettivo stagionale il presidente onorario Tonino Pascale. Abbiamo fatto tramite il presidente Alvales due acquisti internazionali e un acquisto nazionale. E niente, ci dobbiamo salvare. I miei ragazzi sono forti, però c'è una mano in più. E questi tre soggetti, diciamo, sono forti e speriamo di salvarci della salvezza.